un altro oggetto di mirto eccolo qui il consigliere federale toni zanna è venuto a provare il mirto vediamo se è buono salvare alle lo conosci si si è un maestro un professore non so se apprezzo il mirto grande giocata di cecchini che toglie la palla dal guanto di bayon rimbalzato in diamante riesce a prendere la palla nella parte destra della seconda base fa una pirouette e lancia in prima per il primo out e spero non ho te è una sola? no no c'è anche sala che ti fa compagnia ti faccio compagnia che l'ha fatto questo mirto? sempre io e mio padre quindi le bacche sono funzionali? le bacche sono sempre... le bacche è una piantina presa dalla sardegna presa dalla sardegna portata a nettuno quando era in tenera età allora la ricetta è sala senti 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 le pupille le pupille le pupille f9 6-3 qua poc'anzi è venuto un altro sardo di Pirrie Virgilio Berra ma pensate anche Virgilio conosci conosce tutto si prende e non c'è nessuno in base ha fatto il suo band siamo da parte basse del sesto ragazzi si è preso un K e se ne prende un altro due K due strikes su di lui due out parte basse del sesto totoni israeli sta perdendo 7 a 4 si 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 resta e vai sono concentrati sono questa partita ecco qui eccolo qui la situazione dopo 6 inning completi di gioco ragazzi Italia 2 Spagna 4 bisogna rimontare ragazzi bisogna pareggiare le valide due fuoricampi Orlando uno da tre un fuoricampo con tre in base dai che possa andare bene salutiamo anche Matteo Briglia ciao Matteo guarda come corre Usteriz io dico ma come si fa a mettere un uomo così in esterno sinistro guarda come corre ma non è in prima base Usteriz non è in esterno sinistro si era in al Nettuno è riuscito a giocare anche in esterno sinistro non alza le gambe non alza le ginocle l'hai visto? destra l'hanno messo in esterno sinistro numero 11 15 16 prossimo giro lo vorrei far vedere come corre poi siamo siamo io stavo lì dai ragazzi non vedenti l'Under5 vinciamo e se lo dice Totoni allora il baseball è come una maratona è come una maratona non è importante eserci prima al conto di Don Razzano ma è importante arrivare primi a sempre ai pali e qui pensiamo positivi il baseball il baseball il baseball dai 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 iniziamo adesso dai non 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 non